vado soprattutto sulle ciglia e un po' sotto gli occhi ti ho fatto voglia di di fare un giorno in una spa rilassante nell'acqua calda ok siamo finalmente al caldocio aspetta che il tuo angolaggio è ancora un attimo e ti aiuto che so che hai le mani congelate anche se eri di guanti aspetta allora fammi prendere il tuo cappello eh sì è un po' bagnato la tua sciarpa aspetta eccola qua che bella questa sciarpa dove l'hai presa super super carina devo dire sì sì è un po' bagnato allora aspetta togli prima questa manica ok questa ecco qui anche la giacca tolta dammi le mani ok ok e beh ma siamo stati fuori siamo stati fuori tantissimo è normale però questi guanti dovrebbero tenere molto l'unica cosa si è boccato qui quindi è per questo probabilmente che avvi molto freddo a un certo punto tolgo la faccetta tolgo la faccetta ok eccoci non lo scaldacolo mi sa che me lo tengo per ora questi guanti secondo me sono hanno hanno un design un po' di un po' di anni fa secondo me però hanno questa tecnologia che dovrebbe essere abbastanza buona gli ambrosi si asciugano meglio e questi si attaccano anche fra di loro ok vieni qui allora hai i capelli un pochino bagnati in generale vuoi che ti scaldi un pochino con il phon non c'è problema però lo faccio volentieri ok allora prima ti asciugo aspetta che avevo preparato questo aspetta 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 ok anche un po' aspetta i capelli dall'altra parte ok vieni un po' qui eccoci qua molto bene adesso ti do un attimo una asciugata e una riscaldata con il phon ok ok si ammi è qui si ammi è qui la senti c'è la patata ok 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 Ok. Va meglio. Molto meglio. Benissimo, benissimo. Questo è l'importante. Adesso direi che, visto che non abbiamo più freddo, è ora di fare merenda. E volevo prepararti una tisana e anche qualche biscotto, un po' di torta, anche qualcosa di salato, mi sembra. Aspetta. Allora, come tisane ho solo tre scelte, ma spero che almeno una ti piaccia. Guarda che bello intanto fuori. Sta nevicando molto forte ora, guarda. Non si vedono le montagne, si vedono solo gli alberi. Non si vede quasi neanche il paesino. Questo è un infuso mela rosa canina, il mio rottillo, della Vivi Verde. È molto molto semplice, ma penso che sia comunque buonissimo. Io adoro la mela nelle tisane, personalmente. E tra l'altro questo tipo pare anche a freddo da quello che leggo. la seconda che ti voglio proporre è questa, e queste due saranno un po' simili, è della stessa marca. La prima è questa, è della Virob, ed è dello Giron italiano. La tisana della montagna, della montagna, della montagna, della montagna. La tisana della montagna è una miscela di erbe selezionate e sapientemente composte per un infuso aromatico e gradevole per ogni ora del giorno, si adatta bene a fine posto. All'interno c'è melissa, verbena, salvia, petali di sambuco, camomiglia, tiglio, timo, menta peperita ed erba citronella. E' buonissima, in generale questa marca mi piace veramente tanto. E riesco a trovarla solo qui in montagna, accidenti. E la bustina è questa, gialla. L'ultima che ti voglio proporre è sempre della Virob, questa è ancora da scartare ed è la tisana del maso, quindi il consult è molto simile. Questa l'ho comprata proprio ieri, devo ammettere mi sono trattenuta perché ne avrei comprata tutte, 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 tutte. Questa tra l'altro è biologica, 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 biologica. Questa melissa bianca, menta, mela, gumino, menta crisp, menta aranza, menta aranza, calendula e salvia. E wow, oggi sono tutti questi ingredienti molto particolari. Secondo me è buonissima anche questa. Non è assolutamente un problema aprirla. Se senti un collare e ami? Sì, dopo la coccoliamo un pochino se vuoi. È molto stanca perché guarda sulla neve è un pochino più stancante, insomma, è un pochino più faticoso. Non ci abituate comunque, è assurdo come è una giornata di sole, si vedono le montagne e tutto quanto e adesso praticamente non si veda nulla incredibile. Questa è bellissima e c'è uno silenzio fuori. Quale scegli? Ok. Io mi sa che sceggo questa, quindi l'apro. Ah, vuoi tu? Anche tu questo alla fine. E il profumo. Sadi. Spa. Trucci corosi. Molto fresco, si sente tanto la menta. Senti, senti, senti. Oddio. Ok. L'altro metto è la tua tazza. Ok. Oddio. 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 Guarda che carina. Ha questo alberello. Tutti questi cellini. È meravigliosa. E poi, come snack, invece, posso fare una torta. Questa è stata fatta. Questa è stata fatta dal mio papà che mi era andata la cucinata prima che io partissi e prima che tu mi raggiungessi qui. Senti, senti, senti ancora un pochino. A due o tre giorni, però, senti ancora la spugnata. Poi, ho ancora uno di questi biscotti. Solo uno. E ho questi cuoricini molto, molto buoni. Al cioccolato. Cuoricini al cioccolato molto, molto buoni. Allora, ho ancora qualche pochino. Qualche trovato qui. Allora, cosa scegli? Cosa vuoi? Sì, possiamo anche mangiare un pochino di tutto. Ok. Adesso vado a scaldare l'acqua. E torno subito. Eccomi qua. E mentre l'acqua si scalda, volevo chiederti se posso un attimo sdruccarti gli occhi perché ti ho colato un pochino il mascara e secondo me è un po' fastidioso. Forse lo senti anche. Quindi volevo un attimo sdruccarti con un balsamo sdruccante. E poi volevo metterti anche un pochino di balsamo sulle labbra. Sempre perché il freddo, purtroppo, le secca molto. Risentono tanto del freddo le labbra. Ok. Allora. Se gli occhi vado ad usare questo balsamo. Questo balsamo qui che è sdruccante. ed è skin care coreana. L'hai mai provata? Beh, adesso ti faccio provare subito. Allora, ne prendo un pochino. Allora. 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 Lo scaldo bene tra le dita in modo che si sciolga. Ok. ok e vado un pochino soprattutto sulle ciglia dimmi se premo troppo ok vado soprattutto sulle ciglia e un po' sotto gli ombri ti faccio anche un piccolo massaggio se ti va ok ancora un pochino si sembra un po' un panda però adesso sistemiamo tutto non ti preoccupare ok adesso vado un pochino con questa asciugamano che è ancora un po' bagnata da prima e vado a toglierti un pochino il vaso anche sull'altro occhio ok anche sull'altro occhio ok molto molto bene si è venuto via tutto assolutamente e ti sentirei adesso anche gli occhi molto idratati benissimo perfetto ecco ecco la pelle si secca con la neve non c'è nulla da fare e poi ti metto anche un pochino di questo un pochino di questo burro burro labbra vieni qui ecco qui metto un pochino bellissima sonata un bellissimo sonata ok ok adesso semplicemente aspettiamo l'acqua l'ho messa un po' al minimo perchè voglio che l'acqua si riscaldi lentamente secondo me renderà tisana più buona e poi tanto ho messo i filtri dentro quindi poi tanto dovrà anche appunto mettere dovrà stare in infusione il filtro pensavo intanto di decidere con te cosa fare domani in generale sfogliare questo deplian questo deplian è dell'alto adice e vabbè siete state che l'inverno va bene alto adice da v r in particolare del sud tirolo quindi appunto alto a dire e del trentino in generale che bello è che ha questa carta senti la carta senti la carta ok allora uno dei luoghi più amati non solo degli alto tesi degli alto tesini il rago di resia con il campanile sommerso guarda che bello d'inverno più stupendo allora guardiamo nelle nostre zone noi siamo in palpusteria allora potremmo fare un'escursione con le ciaspole con le ciaspole nella neve fresca e lasciarsi arvolgere dalla guida della natura invernale e ammirare parolami straordinari guardiamo altrimenti potremmo andare a fare un giro vicino abbiamo un bressanone anche se non vicinissimo bellissimo oh prunico a me prunico piace tanto è sempre molto bella si può andare a fare un pochino di di shopping anche perchè no potremmo andare in una spa farci fare un trattamento qui suggerisce trattamenti ricchi di tradizione oddio quanto ora hai voglia di un bel massaggio e dice il bagno di fieno trattamenti alpino mumuco il bagno alla mela oddio il bagno nel vino dell'alto adice adoro oddio stupendo magari se se nevica mamma mia guarda lì se nevica così forte che non riusciamo a fare un giro potremmo effettivamente chiuderci in una spa e trattarci bene appunto qui dice benessere relax potremmo andare alle terme potremmo andare alle terme potremmo andare alle terme pericolato mentre nevica oppure vediamo qui dice potremmo andare a fare una degustazione bene allora qui c'è anche una mappa allora 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 ci ho trovato noi siamo qui soprattesito soprattesito potremmo andare in zona appunto dove ci sono dove c'è il croda rossa il fanes oppure vediamo cosa abbiamo vicino abbiamo abbiamo vicino plan de corones potremmo andare potremmo andare in quella zona sesto al piscalino ci siamo stati l'altro giorno oppure sai cosa potremmo prendere la macchina andare un po' più su fare magari un giro a San Candido o anche prendere il trenino potremmo potremmo fare un giro ma pochetti faccio un po' di project potremmo fare un giro a San Candido e poi potremmo andare vediamo vediamo potremmo fare Dubbiaco San Candido oppure San Virgilio di Marebbe bellissimo oppure 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 Chienes o no il lago di Anterselle è chiuso mi ha detto ma con questo tempo oppure potremmo prenderci su mi sembra un'oretta e mezza da qui se si guida bene c'è anche ad esempio Innsbruck potremmo andare un pochino in Austria dimmi te pensiamoci io onestamente voto un pochino per le terme avrei tanta voglia di di fare un giorno in una spa rilassante nell'acqua calda magari c'è anche una piscina fuori senti la neve e e potremmo anche trattarci bene con un bel pranzo non so però dimmi te a me veramente va bene tutto perché sai che qui mi piace tutto ok ok allora adesso direi che posso prendere la tisana e facciamo merenda dai e poi magari a cena ci riprendiamo meglio e guardiamo i posti precisi in cui potremmo andare ok benissimo tutto bene allora vado a prendere la tisana vado e a 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